Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi facciamo la meditazione dei suoni e dei pensieri che è la meditazione che conclude questo breve percorso di avvicinamento alla mindfulness con il quale abbiamo cercato di accompagnarvi in questo periodo. Ecco, questa meditazione dei suoni e dei pensieri viene a cadere in un momento particolare perché siamo nel momento di intersezione tra la fine della quarantena stretta e l'inizio di un periodo in cui piano piano potremo riacquistare alcune delle nostre libertà anche se con molta attenzione. Questa meditazione parla proprio della libertà, della libertà di ascoltare i suoni che rintracciamo nell'ambiente o che possiamo trovare dentro di noi, ascoltare dall'interno del corpo. La libertà di avere i pensieri che abbiamo, piacevoli o spiacevoli che siano. Può darsi che in questa fase noi abbiamo tanti pensieri sia rispetto a ciò che l'esperienza dell'isolamento ci ha lasciato, sia rispetto a ciò che abbiamo perso, sia rispetto a ciò che invece forse abbiamo guadagnato. Il pensare è una facoltà importante degli esseri umani, però delle volte quando siamo eccessivamente attaccati ai nostri pensieri oppure anche quando lottiamo ferocemente contro di essi questo può diventare un po' una trappola per noi. Alle volte i pensieri assumano una tale solidità che possiamo scambiarli per qualcosa di reale e non più considerarli come dei semplici eventi mentali. Ecco, la mindfulness ci propone un modo un po' diverso oggi di vedere i pensieri e di sperimentarli in modo diretto, facendone esperienza diretta come abbiamo fatto anche di altri oggetti della meditazione, il corpo, parte del corpo, il respiro. Oggi lavoreremo prima sulla focalizzazione corporea, la focalizzazione sul respiro per riacquistare la nostra stabilità corporea dove anche la mente si appoggia, poi ci sposteremo da una focalizzazione così stretta e puntuale del pensiero, della mente, ci allargheremo invece alla comprensione, alla consapevolezza più ampia dei suoni che ci attraversano sia dall'interno che dall'esterno del nostro corpo. E poi di nuovo allargheremo questa consapevolezza anche ai pensieri, lo faremo guidati proprio dai suoni, come se i suoni stessi fossero dei pensieri, come se i pensieri avessero un suono e quindi ci attiveremo nella curiosità, stando fermi, stando immobili a osservare questi pensieri senza giudizio e con delicatezza e in questo modo lasceremo che la nostra mente saggia prenda il posto della mente ruminante e la mente saggia è delicata e curiosa, è come quella di un bambino. I bambini conoscono il nome delle cose prima ancora di aver reso parola a queste cose e di aver messo un'etichetta, un nome sulle cose. I bambini sanno il nome delle cose attraverso i sensi molto prima di essere in grado di comprendere le parole e di poterle pronunciare ed è proprio questa capacità che vogliamo ritrovare e vogliamo provare a cercare dentro di noi quel bambino che ha questa mente saggia e intuitiva e che è capace di attivarsi in un processo spontaneo di conoscenza della realtà diretta e immediata. E quindi vi auguro davvero di nuovo una buona meditazione, sentitevi liberi di chiamarci, di contattarci per ogni dubbio, per qualsiasi necessità e anche semplicemente per condividere l'esperienza se volete. Buona meditazione a tutti e arrivederci. La pratica di oggi è la meditazione di consapevolezza sui suoni e sui pensieri. Ci dobbiamo arrivare praticando all'inizio qualche minuto di meditazione sul respiro e sul corpo per stabilizzare il corpo e la mente nella nostra seduta. Quindi scegliamo un posto comodo, su una sedia comoda o su un cuscino. I piedi sono appoggiati a terra o nel caso in cui siamo sul cuscino le ginocchia vanno verso terra perché il bacino è leggermente più alto delle ginocchia. La schiena è dritta e non è rigida. La testa, la nuca in particolare, è in linea con la schiena e con il coccige, come se un filo ci portasse verso l'alto. Una postura che esprima dignità e che incarni una presenza vigile. Le mani sono appoggiate sulle cosce o intrecciate in grembo. Cerchiamo che le spalle si rilassino e cerchiamo di sentire i punti di appoggio e una percezione di stabilità. Ma all'inizio, soprattutto, quello che dobbiamo fare è lasciare che la mente vaghi ovunque essa voglia andare. Non forzarla è molto importante perché forzare la mente ci rende molto irrequieti. Proviamo semplicemente a riconoscere meglio che possiamo quello che in questo momento ci attraversa. Il passato, il futuro, le cose che dobbiamo fare, quelle che avremmo dovuto fare e non abbiamo fatto. forse una sensazione di disagio fisico. Ascoltiamo il corpo e la mente che sono dispersi. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. e poi a un certo punto raccogliamo tutta la nostra attenzione sul respiro e per farlo ci aiutiamo facendo tre respiri più profondi in modo che le nostre orecchie possano sentirlo in modo che le nostre narici possano essere toccate da lui in modo che lo sterno si alzi e il ventre si allarghi e si restringa al passaggio di questi tre respiri più forti e poi dopo lasciamo che il respiro si stabilizzi al suo ritmo normale iniziamo a seguirlo un respiro alla volta ad ogni ispirazione e ad ogni espirazione allo scopo di diventare consapevoli che stiamo respirando allo scopo di diventare consapevoli che stiamo respirando l'aria entra e l'aria esce respiriamo allo scopo di diventare consapevoli che stiamo respirando ora lasciamo che il fuoco della nostra consapevolezza si sposti dalla sensazione del respiro all'ascoltare portiamo l'attenzione sulle sensazioni fisiche delle orecchie le sensazioni della pelle dei muscoli delle orecchie e di tutto quello che troviamo all'interno del canale uditivo portiamo l'attenzione alle sensazioni fisiche delle orecchie e poi lasciamo che questa attenzione si allarghi e che la consapevolezza si espanda così da essere recettivi ai suoni ai suoni dell'ambiente esterno ai suoni dell'ambiente interno del nostro organismo i suoni mentre sorgono permangono per un certo periodo di tempo e svaniscono li seguiamo nel loro nascere, permanere e svanire ovunque essi sorgono non c'è bisogno di cercare suoni particolari ma quello che dobbiamo fare è di lasciare semplicemente che la nostra mente sia aperta meglio che possiamo alla consapevolezza dei suoni provenienti da tutte le direzioni nel momento in cui sorgono suoni che sono vicini suoni lontani suoni che sono davanti, dietro, di lato, sopra o sotto di noi apriamoci a un intero spazio di suoni intorno a noi suoni molto evidenti, suoni più sfumati cerchiamo la consapevolezza dello spazio vuoto tra i suoni la consapevolezza del silenzio grazie a tutti 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 noi diamo attenzione ai suoni per quello che sono semplicemente delle sensazioni e quindi ogni volta che ci rendiamo conto che li stiamo pensando i suoni e non li stiamo più sentendo riconnettiamoci meglio che possiamo alla diretta percezione delle qualità sensoriali del suono che stiamo seguendo nel suo sorgere nel suo permanere nel suo svanire quindi il timbro l'intensità il tono la durata del suono la sua forza la sua intensità piuttosto che il loro significato il loro nome una macchina che passa una persona che attraversa un'altra stanza della casa le voci dei vicini gli uccellini che cantano fuori dalla finestra il rumore del vento le voci delle persone nella strada diamo alla nostra consapevolezza oggi con questa meditazione una qualità più aperta più larga spaziosa respiriamo questi suoni accompagniamo la nostra consapevolezza con il nostro respiro che in background continua ad accompagnare ogni nostro momento di vita grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Così come i suoni rimandano agli eventi che accadono nell'ambiente, qualcosa sta accadendo che produce suono, così i nostri pensieri rimandano ad eventi che accadono nella nostra mente. E quando siamo pronti lasciamo andare la consapevolezza dei suoni con un respiro più profondo e portiamo tutta l'attenzione nuovamente su un altro oggetto che sono proprio i pensieri in quanto eventi che accadono nella mente, i pensieri come i suoni degli eventi della mente. Così come con i suoni concentravamo la consapevolezza su qualunque suono, osservandone il sorgere, lo sviluppo e il suo svanire. Adesso nello stesso modo portiamo meglio che ci riesce l'attenzione sui pensieri mentre sorgono nella mente. Notiamo quando sorgono. Prendiamo consapevolezza mentre passano attraverso lo spazio della mente e prendiamo consapevolezza di come alla fine svaniscono. non c'è bisogno di tentare di richiamarli o di mandarli via. Semplicemente lasciamoli arrivare naturalmente nello stesso modo in cui ci rapportavamo al sorgere e allo svanire dei suoni. E restiamo per qualche minuto con i nostri pensieri. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Aspettiamo che si presenti un pensiero e un'immagine e quando arriva proiettiamolo sullo schermo e prestiamogli attenzione per tutto il tempo che lui ci resta e abbandoniamolo quando esso se ne va spontaneamente. Al termine di quel pensiero proviamo a proiettare il successivo. Dopo torniamo nella mente, apriamo la mente, allarghiamo la mente a diventare consapevole dell'insieme di tutti i pensieri che l'attraversano. Poi li lasciamo andare e torniamo al puro respiro. All'aria che entra e che esce dal nostro corpo, portando vita, portando ossigeno, portando quiete e stabilità. seguiamo qualche respiro dall'inizio alla fine del suo ciclo vitale, quando sorge, si sviluppa all'interno del corpo e poi svanisce. Grazie. 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 Non devi essere buono. Non devi trascinarti i ginocchioni pentito per cento miglia attraverso il deserto. Devi soltanto permettere a quel mite animale, al tuo corpo, di amare ciò che ama. Parlami della tua disperazione, io ti racconterò la mia. Intanto il mondo va avanti. Intanto il sole e gli splendenti sassolini della pioggia attraversano i paesaggi. Passano sopra le praterie e gli alberi dalle profonde radici, sopra le montagne e i fiumi. Intanto le oche selvatiche alte nel limpido azzurro fanno nuovamente ritorno a casa. Chiunque tu sia, per quanto tu possa essere solo, il mondo si offre alla tua immaginazione. Ti manda il suo richiamo, come le oche selvatiche. Aspro ed eccitante, annuncia incessantemente la tua appartenenza alla famiglia delle cose. Ti manda il suo richiamo, come le oche selvatiche. Grazie.